Ciao a tutti cari amici miei e benvenuti in questo nuovo video, io sono il ProvaCose. Oggi parliamo di un prodotto che mi ha mandato a Domography e che volevo provare da un po'. Sto ovviamente parlando del Digitalize 35 mm e adesso andiamo a vedere che cosa serve e come funziona. Ma prima di tutto, segretta! Non è altro che una maschera che è stata pensata per portare in digitale i nostri negativi in formato 35 mm. E questo si può fare sia con uno scanner, se ce l'avete, o anche grazie all'ausilio di un tablet e una macchina fotografica. Andiamo a fare l'unboxing e capiamo come funziona. Questo è quello che ci troviamo davanti una volta aperta la scatola. Abbiamo le istruzioni, la placca Digitalize, questa placca di metallo e questa maniglia magnetica. Devo dire che al primo utilizzo sono rimasto un attimino stranito da come funziona questa placca, ma in realtà non è perluna difficile, vi faccio subito vedere come si usa. Prima di tutto, dobbiamo posizionare su una superficie piana questa barra di metallo. Adesso apriamo la mascherina, che ha una chiusura magnetica, e facciamo combaciare queste scaranature con i dentini di questa placca di metallo. Adesso dobbiamo prendere il negativo che abbiamo scelto e posizionarlo all'interno della mascherina, tanto ci sono dei dentini che ci indicheranno la posizione corretta. A questo punto non ci resta che chiuderlo. Posizioniamo al di sopra la maniglia magnetica, ed ecco fatto che la nostra mascherina è pronta. Siamo arrivati fino a questo punto, abbiamo il nostro negativo all'interno della mascherina, adesso io mi servirò di un tablet e di una macchina fotografica. Togliamo la maniglia e alziamo la placca. Ecco fatto che il nostro negativo è pronto per essere fotografato o scannerizzato. Ora prendiamo il tablet e lo usiamo praticamente come una lavagnetta magnetica, quindi ho messo lo sfondo bianco con luminosità al massimo. Ci poggio sopra la maschera con il negativo, e adesso non ci rimane che fagli una fotografia. Per scattare la fotografia al negativo userò una Canon 800D, voi non la potete vedere ma è ancorata qua sopra, è quella che uso per farvi vedere da una prospettiva più alta un prodotto quando faccio un unboxing o ci lavoro con le mani. Vediamo. Oh, eccolo qui. Ora che abbiamo un'immagine chiara e ad alta definizione del nostro negativo, non ci rimane che prendere le SD e spostarci sul computer o sul Mac. In questo caso io sto usando Photoshop, non ho usato plugin particolari come Negative Lab, insomma cose a pagamento. Ho semplicemente ritagliato la porzione di negativo che mi serviva, ho usato l'impostazione Inverti e poi ho solamente aggiustato un po' i colori. Ecco che abbiamo la nostra foto digitalizzata. Vi faccio vedere qualche esempio in più. Io adesso ho usato Photoshop, ma qualsiasi programma di editing fotografico offre l'opzione Inverti. Anche quelli per smartphone, quindi è una cosa abbastanza facile. Guardate come sono belle e vintage queste immagini. Voglio precisare che le vedete un po' pixelose perché il tablet che ho utilizzato è un iPad 2 becchissimo, tipo del 2010-2011 che avevo comprato e usato. Quindi ha uno schermo in cui si vedono ancora i pixel, ma se avete un tablet di nuova generazione non c'è nessun problema. Anche il flash di uno smartphone con sopra la carta da forno, se lo poggiate sopra, funziona lo stesso. Insomma, dovete cercare di creare una specie di lavagnetta luminosa, che sia un tablet, che sia una luce, che sia un led, quello che volete. Allora, funziona piuttosto bene anche come posizionamento dei negativi. C'è da dire che qualche volta qualche striscia se la perde, te la posizioni sopra e questa scivola verso il basso, ma forse perché ho usato negativi vecchissimi che avevano fatto i miei genitori e quindi magari sono un po' piegati. So quello che state per dire. Perché dovrei comprare una mascherina quando posso tranquillamente poggiare il negativo sopra lo scanner? Sono dubbi legittimi, tuttavia questa mascherina ci permette innanzitutto di non stropicciare né toccare troppo i nostri negativi. Li posizioniamo sopra, chiudiamo la mascherina e non dobbiamo maneggiarli più. In più, questa nuova versione è stata dotata di gommini antiscivolamento, quindi la possiamo mettere direttamente dentro lo scanner e il nostro negativo non si muove a destra manca. Se non abbiamo uno scanner possiamo comunque usare la nostra macchina fotografica per immortalare i negativi, ci basterà solamente un tablet o comunque una fonte di luce esterna. E poi c'è l'ultimo punto, se vedete il negativo viene ancorato ma con i fori di trascinamento esposti. Questo proprio perché Digitaliza è stata creata per scansionare negativi dal formato speciale, come ad esempio scatti con fori di trascinamento, che tra l'altro sono bellissimi, panoramiche o sovraesposizioni. Insomma, è ovvio che questo prodotto non si pone come un'alternativa allo scanner, ma anzi si pone come uno strumento da usare insieme ad esso. Oppure si propone di aiutare anche quelle persone che magari non hanno uno scanner ma che vorrebbero riportare in maniera piuttosto semplice i loro negativi in digitale. Inoltre, per un amante del marchio Lomography, che magari ha anche una vena di collezionismo, la Digitaliza non può mancare nella sua collezione. Insomma, voi che cosa ne pensate di questo prodotto? Avete avuto occasione di provarlo? Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così non vi perdete le prossime pubblicazioni. Noi ci vediamo la prossima settimana con la recensione della SQ1 di Casa Fujifilm. Una macchina che volevo provare da un sacco di tempo, anche perché non avevo mai provato il formato square e devo dire che è veramente molto molto bello. Quindi, non perdetevi il prossimo video, sempre qui sul ProvaCose. Ciao!